L'inquinamento nella pianura padana, i temi dell'immigrazione, il sito satirico Lercio nella top 10 dei siti più visitati, degli articoli più letti della settimana. Ce lo dice MINE 2018, il progetto del Dipartimento di Scienze e della Comunicazione dell'Università Carlo Bo di Urbino che ci racconta ogni settimana quali sono i siti, le testate più lette della settimana, gli articoli più letti della settimana e quelli più condivisi sui social network. Un progetto, vediamo i numeri con quasi 60.000 articoli letti, oltre 3.000 fonti e oltre 4.300.000 numeri di osservazione. Allora andiamo nel dettaglio, l'articolo più letto della settimana è questo della stampa Pianura Padana, ormai è una camera gas. Pensate a 31.000 reazioni su Facebook ed è stato condiviso quasi 9.000 volte, al primo posto sia per numero di reazioni sia per numero di condivisioni. E poi il tema dell'immigrazione, caro agli elettori, lo troviamo nella pagina romana del sito fanpage.it. Un articolo che riguarda Iari Dallara, con Forza Nuova e Casa Pound guidava la rivolta anti-migranti, arrestato per furto con scasso. E poi nella classifica generale c'è il sito satirico Lercio, il sito di notizie false, che al primo posto delle fonti come maggior numero di reazioni, al secondo per condivisioni. Questa settimana al terzo posto c'è l'articolo che riguarda Di Maio, il quale direbbe, secondo Lercio, aboliremo 400 regole grammaticali. Se volete saperne di più sul report, il sito è elezioni2018.news, renews24 e media partner insieme a Repubblica. Noi ci rivediamo la prossima settimana per il prossimo report.